L'acquacoltura è un sistema di allevamento sostenibile in grado di garantire un pesce sempre fresco, controllato e di ottima qualità. Nonostante questo, i pesci d'allevamento sono ancora considerati pesci di serie B. La soluzione? Una campagna di comunicazione con un approccio friendly, diretto e disinvolto, in grado di abbattere le ostilità e di evidenziare i lati migliori dell'acquacoltura, guadagnando così la fiducia dei consumatori. Uno spot che racconta dei mille controlli cui vengono sottoposti i pesci d'allevamento, controlli così accurati da arrivare fino a casa tua. La freschezza? Prima di tutto, ma anche gli accurati controlli degli allevamenti, la tutela della salute dei pesci e il rispetto per l'ambiente. Acquacoltura, un mondo buono, fino a casa tua. Campagna promossa dal Ministero delle Politiche Agricole. Un radio che racconta quanto il pesce allevato sia fresco, controllato e sano. Parola del tuo pescivendolo di fiducia. Buongiorno. Rino, ma questo è un pesce d'allevamento? Eh sì, fresco, 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 fresco. È sano, è sano, 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 sano. Eppure verde. Verde? Verde, 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 verde. Il pesce d'allevamento è esageratamente fresco, controllato, sano e allevato rispettando l'ambiente. Acquacoltura, un mondo buono, fino a casa tua. Buono, 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 buono. Campagna promossa dal Ministero delle Politiche Agricole. Elufish.it Una campagna in cui i pesci sono i protagonisti e la mano dell'uomo si prende cura di loro. Un sito web per scoprire tutto sull'acquapoltura. Una campagna web su portali di informazione e tematici. E ancora, brochure informative, palette per le pescherie, vetrofanie per i ristoranti, videoricette, ricettario, eventi promozionali e molto altro ancora. HelloFish. La cultura dell'acquacoltura.